Ho fatto domanda per la borsa di studio per concludere l'ultimo anno della canale qua a Bologna e dopo una serie di riflessioni in famiglia ho deciso di fare domanda per uno studentato e quindi abbiamo fatto domanda e per una serie di motivi che non si sono ancora ben capiti in realtà perché distribuiscono le persone per la città mi sono ritrovato nello studentato qua al pilastro e quindi sono qui da ottobre, danno moltissimi mesi. Qual è la tua esperienza? Tutti dicono che il pilastro è una zona un po' off limits. Tu hai mai avuto questa esperienza? Hai dei lati positivi e negativi da raccontare? Allora, bisogna dire che probabilmente... Sinceramente? No, sinceramente diventano molto racconti e quindi delle persone che incontri e anche magari che sono qui da più tempo ti dicono che ci sono delle situazioni più difficili, più complicate però c'è anche da dire un'altra cosa che lo studente che vive nello studentato per una serie di motivi fa fatica a vivere il quartiere a vivere la zona nella sua complessità ma anche nella sua pienezza e quindi può capitare che si attacchi agli eventi della vita quotidiana a quelli che riesce a vivere perciò quando si sposta in autobus per andare in un posto oppure per andare a fare la spesa perché molte volte si fa tutta la giornata in centro all'università e poi si torna alla sera tardi Zone of Limits, secondo me, non è in sé per sé uno, anzi forse due, dei problemi che riscontrano gli studenti che io conosco ma anche per me probabilmente questione della mobilità alla sera nel senso che siamo studenti comporsi di studio quindi non siamo qui nessuno con macchine o altri mezzi particolari siamo distanti in parte dal centro quindi non tutti se la sentono di andare in bici fare avanti e indietro e quindi ci sono i mezzi pubblici la questione dei mezzi pubblici è che entro un certo orario che però per il giovane che vuole vivere la vita natura della città è un po' proibitivo perché non so se verso mezzanotte gli ultimi arrivano a dire verso luna forse luna sì sì, la mezzanotte è luna quelli che riescono a passare e quelli che non passano quello può essere proibitivo, un po' castrante rispetto alla zona in cui si abita oppure anche per tornare a casa quella è una questione la seconda questione è che essendoci questo problema di mobilità alla sera perché per il resto della giornata non ci sono critiche da fare in nessun modo è che si fa un po' di difficoltà a trovare delle zone neutre al di fuori dello studentato in cui vivere o passare del tempo come pub o locali o simili che vanno a dormire un po' per tutti questo bisogna dirlo che si possa uscire insieme in gruppo e trovarsi bene più o meno tutti questo forse sì quindi questo in qualche modo limita anche la presenza di studenti nel quartiere secondo te? sì, secondo me sì tanto che nello studentato una delle cose famose che si fanno è invitare altre persone a far venire passare qualche notte anche qui viene da fuori e vengono vengono però c'è questa cosa che spesso chiedono a noi di muoverci per andare dall'altra parte della città perché sembrerebbe più comodo ma in realtà poi c'è questo problema della mobilità di nuovo che è un po' blocca sia andare che tornare sia per noi che per il lato forse è percepito anche abbastanza lontano quando io dico pilastro per esempio la gente dice che è il posto più lontano di Bologna sì, sì, è vero questa è un'altra cosa che rientra tra le percezioni del quartiere però poi in realtà quando vengono a trovarci che facciamo anche un giro una passeggiata per forza le nottate ci si trova abbastanza bene in realtà infatti cambiano opinione dicono ma questa zona non l'avevo mai vista eccetera eccetera quindi in realtà c'è una sorta di stupore quindi è molto per sentito dire poco aver vissuto la zona ok e l'altra cosa ultima domanda invece avete mai avuto secondo quello che ti puoi ricordare rapporti con la cittadinanza cioè cittadini nel pilastro o c'è anche qua la divisione tra studenti e bolognesi come può essere un po' più in tutta la città no, no questa cosa ad esempio l'ho trovata di più in altre parti della città in altre parti della città c'è molto più anche chiedendo informazioni c'è molto più la questione di dire ah no qui lì c'è la zona studenti lì quella via di là e lì poi dopo ci sono gli studenti qui questa cosa non ho mai sentito particolarmente questa divisione anzi ci siamo trovati comunque io personalmente mi sono trovato mi sono trovato bene questa divisione anche perché in pochi sanno che c'è uno studentato il pilastro che c'è un po' più